Abbiamo fatto un primo tempo, non siamo proprio entrati in campo, è stato inguardabile. Il secondo tempo abbiamo iniziato bene, il mister ha fatto una sostituzione molto intelligente che ha messo Spinosa dietro le punte e abbiamo creato una superiorità numerica di mezzo. Però ho visto una squadra che ha giocato poco e questa non è la squadra che io purtroppo mi aspetto. Questa è una squadra che con i giocatori che abbiamo non posso offrire così, mi aspetto molto di più. Già dall'inizio della gara non possiamo soffrire così. Abbiamo trovato una squadra fotta, una squadra cattiva. Siamo stati fortunati a trovare subito il gol e fortunatamente ci è andata bene, ma non si può soffrire così. Presidente, le posso chiedere dove vuole arrivare questo Pompei in questo campionato? Lei arriva da una piazza come San Giorgio per cominciare una nuova avventura. Si è dato un obiettivo per quest'anno? L'obiettivo della società è quello di arrivare il più in alto possibile, non mi voglio nascondere, quello di cercare di poter vincere questo campionato. Però da quello che vediamo sicuramente sarà molto difficile perché io seguo tante squadre, vedo squadre oggi ancora più organizzate di noi, giocano meglio e sono anche più cattive. Spero che già dal prossimo turno di trovare una squadra più cattiva e che soffriamo di meno. Il pallone si soffre ma non in questo stato, è stato proprio pazzesco. Belli non va da nessuna parte, oggi se non metti cattiva, non sei umile, non va da nessuna parte. Io voglio una squadra cattiva che rispetto all'avversario non prende mai la partita sotto tono. Perché come già ho detto sempre, anche dei colleghi, su ogni campo sarà una guerra e noi questo lo dobbiamo sapere, dobbiamo entrare in campo preparati a questo. Invece già oggi ho visto di nuovo la squadra che abbiamo iniziato la prima di Coppa e la prima di campionato. Mi auguro che troviamo la forza di iniziare a giocare e di divertirci pure, perché il calcio è divertimento. Per me è vero che la vittoria fa bene, arrivare a un risultato è importante e vincere, però bisogna anche divertirsi. Io così non mi diverto.